Cese vince il PD, se vince la Forza vincono i 5 Stelle, ma lo trovo legittimo. Poi i 5 Stelle si possono criticare su tante cose, che sia colpa di subare dei Conte mi sembra un po' una forzatura. Allora, Alessandro Moretti, le voglio chiedere una cosa a proposito delle europee, perché è un altro tema di grande dibattito in tutti i partiti, a cominciare dal Partito Democratico. Lei è stata candidata al Parlamento Europeo nel 2014, dopo un anno ha lasciato 7 mesi per candidarsi alla presidenza del Veneto, dove non è stata eletta, perché ha rivinto Zaia. Si sono dimessa prima. Si è dimessa prima e poi si è ricandidata a Bruxelles nel 2019. Ora, Elie Schlein, la ricandida alle europee? Beh, tutti gli uscenti che non hanno fatto tre mandati sono ricandidati e questo la segretaria l'ha detto spesso anche per riconoscere il grande lavoro che in una legislatura folle in questi 5 anni abbiamo fatto come delegazione del Partito Democratico. Però Elie Schlein non l'ha mai chiamata, non le ha mai parlato per la ricandidatura. Devo dire che Elie Schlein è una delle poche, forse l'unica segretaria che si fa sentire, che chiama se ci sono dei problemi su cui stiamo lavorando. Ne abbiamo parlato alla delegazione, tutti insieme ovviamente ci sono delle problematiche come appunto la presenza di personalità civiche. Esatto, e questo è un punto molto controverso, no? Che pare che la segretaria del PD voglia candidare molti civici alle europee. E a molte sue colleghe e colleghi viene un gran mal di pancia a sentire parlare di civici a lei? Guardi, senza i civici noi non avremmo avuto personalità come David Sassoli, per esempio. Quindi non è il problema dei civici. I civici fanno bene, fanno bene al PD quando sono personalità di quel calibro. La cosa importante è che ci sia la volontà di riconoscere il lavoro fatto, questo è quello che chiede la delegazione del PD in Europa, ma soprattutto la volontà di costruire una classe dirigente che in Europa ci sta. Io nel 2019 mi sono trasferita a Bruxelles con i miei figli, ho fatto una scelta di stare lì, di lavorare sui dossier e poi i riconoscimenti sono arrivati. Ma la classe dirigente italiana a Bruxelles, definita sempre troppo debole, lo è perché dopo un mandato si passa a qualcos'altro. E quindi è questa la riflessione che va fatta in maniera seria. Allora, quindi in sostanza lei tornerà a Bruxelles? Io sto correndo, sto correndo per fare una campagna elettorale seria tra il territorio e cercando di anche raccontare attraverso una narrazione positiva le cose straordinarie che in questa legislatura abbiamo fatto. E serve anche questo libro che è appena uscito, che lei ha scritto dal titolo La vita rivoluzionaria di una donna comune, pubblicato da Baldini Castoldi. E anche qui, immagino che lei racconti, non l'ho letto ancora, ma racconta anche quello che sta facendo. Ci sono tante cose che abbiamo fatto, ma anche un'idea di Europa. Quale Europa vogliamo costruire per il futuro?